Vanno? Riccardi, Arenautica, poi Fiongiamo ora, Cento d'orriba via, davanti da Riccardi, provo a affiancarsi, Arenautica, Lorenzo Moscatelli, secondo cambio. Paolo Pistolo per Riccardi, Marco Volaglio per la Granautica, dietro Fiammeo Romani e Cento d'orriba via. Ultimo cambio, ci saranno Danio per la Riccardi, Enrico Miletto per la Granautica, Camera Romani per la Granautica, Fiammeo Romani, Cento d'orriba via, davanti, c'è l'entendamento da Riccardi, si nota che c'è l'opera posto. Campione Valente 2009, tutta una unità, Giovanconi, 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 Giovanconi e Cento d'orriba via, Riccardi in mano, 1,27,25, ufficioso.